Sono state avvistate le statue sorridenti e guardate quanto sono inquietanti E per la prima volta sono state avvistate in questo anime che parla di questo ragazzo che è un cacciatore Dice Hunter in inglese Però qualcuno dice che queste statue le ha viste anche nella vita reale Ma vi immaginate che terrore? Quel sorriso pieno di follia È la cosa più inquietante che abbia mai visto Voi mi vedete in casa, no? E vedete che c'è anche una nuova zona E vedete anche che ho questa cosa E dice anomalia trovata Una Che cos'è questa anomalia? Adesso andiamo a vedere perché ecco Già si vede da qua ragazzi Purtroppo ho dovuto murare questa cosa Perché c'è una cacchio di statua Che se tu la guardi lei non si muove Non viene da te Vedete? Ma se tu non la guardi Sì! Oddio! Si muove tantissimo No 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 Aia! E fa pure male Oh no Ti sta cercando Mi 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 No Cos'è? Cos'è stato? Oh mio dio No 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 Devo recuperare vita Ok allora ragazzi Ricordiamoci che noi Siamo i Cacciatori dei segreti Qui noi Non solo Troviamo i segreti Ma li sconfiggiamo! No raga Questa non si può distruggere Come si fa adesso Mi dice proprio che è un'anomalia E che quindi Oddio cosa faccio? Gli scavo sotto L'unica cosa che mi viene in mente da fare Non dovrei farlo Com'è successo? No 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 Ma cosa? No ragazzi cosa sta facendo? La sto guardando Dove sono finito? No 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 Dove sono finito? Ma mi ha teletrasportato a caso? Poi qua vedete che c'è pure Erbam Oddio! No non possiamo nemmeno stare sull'erba per troppo tempo No raga questa cosa non va bene però Dove sono finito? Allora mettiamoci dei blocchi qua Prima che Erbam si arrabbi Perché c'è Ci sono delle foglie che stanno così? Da qualche parte la casa dovrà essere Dove diavolo mi ha teletrasportato? Io mi voglio chiedere come caspita sono entrati in casa mia Scusami Erbam Ok quella è solamente parte della mia costruzione Deve uscire fuori Oh però non c'è più vedo In teoria Aspetta io non mi fiderei troppo Prima di tutto capiamo da dove caspita arrivano queste sea lantern Vedete che ci sono delle lanterne che si sono rotte Non lo so ma magari potrebbe essere anche venuta qua sotto la statua Attenzione non c'è nessuno Non sembra esserci nessuno Ok aspetta però abbiamo anche il detettatore di anomalie Quello che trova le anomalie Quindi queste statue qua che Se tu non le guardi loro ti uccidono praticamente Perché ti vengono alle spalle e ti uccidono Ok allora mettiamo tutto qua dentro Non sembrano esserci anomalie Eppure le sea lantern Queste sono le mie casse e tutto quanto Qua per fortuna È il mio posto praticamente dove posso star tranquillo Beh più o meno perché poi arrivano le statue Cioè io non ho capito come ci sono entrate qua sotto Non è che c'è magari qualche spawner qua vicino che le fa spawnare Tipo qua sotto No allora a parte che sto distruggendo casa mia quindi vorrei evitare Però da qualche parte devono arrivare per forza E un'altra cosa ragazzi Io praticamente ho trovato Oddio no sentitelo sentitelo Allora questo meme nugget Cade il cacchio Io mi chiedo come caspita c'è finito nel mio mondo Punto primo perché cosa c'entra con minecraft Il nugget del meme E poi secondo io Continuo ad andare in quella cosa ragazzi E ho trovato un nuovo percorso Una nuova cosa è spawnata dentro Adesso andiamo a vedere perché Non l'ho ancora vista e quindi vorrei Proprio vederla insieme a voi Allora eccolo là Praticamente La scorsa volta c'era solo quel corridoio diciamo Vabbè corridoio chiamavolo corridoio Cioè nel senso era un posto molto grande Che poi li continua anche con quella porta Dove appunto porta ad una fine Dove c'erano questa spada ed altri oggetti E quindi ho trovato anche questo coso Quindi prima di tutto vediamo se ci sono delle anomalie qui intorno Perché non vorrei mai trovarmi con delle statue Dietro di me che mi vogliono uccidere Quella parte no E poi soprattutto qua Adesso che entriamo Non sembrano esserci niente Ok vediamo Allora noi come la scorsa volta Dobbiamo completare queste cose E per poter continuare Io ho sentito un blocco che si rompeva Ma forse me lo sono immaginato Per poter continuare Devo completare queste cose Anzi facciamo così Da questa parte lo prendiamo Così prendiamo proprio tutto Fino a qua Perfetto Abbiamo 4000 blocchi Perfetto Così va un sacco bene Allora noi qui ci mettiamo così E poi dopo facciamo tutte queste cose Quindi praticamente ragazzi Dobbiamo completare questo blocco In questo modo qui Che poi è anche molto soddisfacente Perché eccoci No però devo ecco Sono un po' stupidello E no qua non vedo niente Oddio Sto diventando panicoso Ok così Va bene va bene va bene Ecco dai Mettete Vabbè facciamo così Dobbiamo completarlo bene Se no poi dopo si arrabbiano E non ci fanno andare avanti Accidenti Poi così e così Perfetto E ancora però Così e così Ok Dopodiché Adesso bisognerà fare Una cosa di questo tipo Certo che è anche difficile Muoversi da queste parti E poi completare Questo posto Così Ok Dopodiché Io farei una cosa del genere però Ho un'idea Ho un'idea Facciamoci una slab Tanto ci è permesso Semplificarci il lavoro Quindi ci facciamo una slab Di qualsiasi materiale Di legno va bene Dopodiché ce la mettiamo qua E E E non va bene Vabbè Allora Completiamo così Andiamo da questa parte E perfetto Abbiamo completato Quest'altro strato Ok Da questa parte così E perfetto Dopodiché facciamo così E così Guardate come Comunque sta diventando bellissima E' super soddisfacente Completare queste cose E dopo così Perfetto Allora direi di rimettere Il tavolo a posto Prima che si arrabbino E direi di prendere pure Questa crafting table Che ci servirà E anche questa slab Che abbiamo piazzata Però magari dopo Lo facciamo Prima di tutto Facciamo così E poi così Guardate che bello Questo è super satisfying Anche perché si fa Super velocemente E basta completare Dei blocchi E quindi E' molto Molto soddisfacente Fare questa cosa Avete presente Quei video Soddisfacenti Dei giocattoli Oppure delle cose Ecco E' la stessa identica cosa Ok Perfetto Comunque io mi chiedo Chi caspita è che vuole Che noi completiamo Questi oggetti E soprattutto Perché dovremmo farlo Cioè Perché vogliono Che completiamo Queste cose Non ha senso Se ci pensate Cioè Ci dovrà pure essere qualcuno Che Insomma Pensa A fare queste cose No Ok Dopodiché mettiamo qua Così E poi così E poi così E poi Perfetto Completato anche questo Ok Completato anche quest'altro Coso Posso dire che sembra Tipo una malattia Ok Lo posizioniamo qui Il blocco E poi così Perfetto Ma Ragazzi Cosa di No 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 Perché non sto più vedendo niente Dov'è finita la mia spada Peraltro Aspetta Devo rompere questa cosa Probabilmente mi ha rubato la spada Ragazzi Ma è stato lui Per caso Ok Me le ha ridate E c'è un'altra anomalia Però mi sa dall'altra parte del muro Perché No Aspetta un attimo Non so in realtà dove Forse qua Da qualche parte ci dovrà pure essere L'altra anomalia Non lo so Continuiamo a completare Perché è Pericoloso Qui Allora Mettiamo i blocchetti Ok Così Peraltro Questa parte qua Noi mi sa che dobbiamo Pure tutta completarla Se no Eccoci Però non così Da qui E poi così Perfetto E quindi abbiamo completato Questa parte qua Dopodiché Mettiamo così E poi Ovviamente Così E poi dicevo Così E completiamo Un altro pezzettino Dopodiché così E poi Oddio Non mi ricordo più Ecco qua Così Per fortuna c'è la cosa rossa Che Mi dice perfettamente Dove vado Ricordiamoci che qua c'è Ci sono gli anomali Ragazzi Io ho una paura assurda Che arrivino Anche perché prima Mi sembra di aver visto Tipo una torcia nel muro Sono certo Che sia Dall'altra parte Sono certo Al cento per cento Quindi Facciamo così Ok E' quasi completato Praticamente Poi così E poi Ok così Cos'è? Mi ha dato un effetto Ma va dato un effetto No Io ho paura Io Io ho paura E qua? Mi dice che c'è in effetti qualcuno No ragazzi Cioè vi giuro Mi dice C'è un'anomalia Ma chi è stato a rompere il blocco? Ragazzi ho paurissimo Amore No 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 Per favore Per favore Che paura No 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 C'è qualcosa che non va qui Sono sicuro che ci sia qualcosa che non vada Ok però completiamo questa parte Che vuoi che ti dica Ok Fatto Ehm Mi sa che ho trovato il signorino E mi sa che si trova qua Purtroppo E ha rotto pure quella lampada Allora Rompiamolo noi così Con il piccone Perché queste statue Ovviamente sono delle statue Sono fatte di pietra Quindi loro sono vulnerabili Oh mio dio Ha il piccone Ha il piccone comunque E però loro rompono evidentemente le luci E infatti ti danno anche la cecità Non si vede niente Non si vede niente No 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 Ho paura 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 Non c'è nessuno Non c'è nessuno Io sono proprio nascosto sotto il tavolo Sotto il tavolo proprio Me ne vado sotto il tavolo adesso Non me ne frega niente Aiuto 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 ragazzi Che paura Ma state scherzando Cosa sono queste statue orribili Oddio Vediamo se ce ne sono altre Dice anomalie zero Ok Positivo quindi Bene Il fatto che sia un'anomalie zero È buono Eccoci Però C'è un problema qua Perché Se io vado qua Non posso saltare Accidenti Quindi mi sa che devo seguire il percorso Vabbè è stato anche abbastanza veloce Devo dirvi Pensavo peggio Vabbè Ho visto questa cosa Ho detto Ma che cos'è Che schifo Allora Ho paura Perché da quest'altra parte Che diavolo c'è Ok non c'è niente Ok continuiamo E Teniamo sempre questo in mano Peraltro Oh ma mi sta dicendo che c'è un'anomalia Me le sono accorto Solo ora No è Dov'è di nuovo l'anomalia Dov'è l'anomalia Dov'è la statua di No è lì Perché si muove Ok però noi Mentre la guardiamo Se continuiamo a guardarla In teoria non fa niente Il fatto è che però Non si stia muovendo Mi spaventa ancora di più Anche se in realtà Boh Cioè non è vero in realtà Mi spaventa così tanto Oh siamo attenti perché qua Ma ragazzi Scusate un attimo Ma se faccio così Cos'è stato Allora a parte che Non mi dà la luce Purtroppo Se io butto Sarebbe stato utile Se mi fosse Però comunque Oddio Mi sembra bloccata pure Questa statua Da delle barriere Ok Tu non fai niente Giusto Va bene La rompo però Che caspita è questa cosa Ok c'è un Barile Che prendo Ok E poi questa Che cacchio è Tipo Una luce Che cacchio Aspetta fammi vedere Dentro Ma questo mi sembrava Mi sembrava un ragno Stava per cadere Qui sotto E se vedete lì E mi sa che non si vede però E lì sotto E pie Cioè praticamente c'è il void Non c'è niente Cioè si cade E si perde tutto Praticamente lì Quindi Non dobbiamo mai andare Quindi queste cose Adesso ci potrebbero essere utili Se troviamo questi oggetti pazzi Cioè queste statue Ok andiamo così E perfettamente qua Ok Adesso usciamo Cene In teoria abbiamo completato tutto qua Perfetto E quindi In teoria Se nascono nuovi di questi percorsi Che però ci possono essere utili A questo punto Cioè Erbam a questo punto Sta diventando anche abbastanza Utile Cioè queste statue sorridenti Sono veramente Veramente inquietanti Ragazzi Non pensavo di Di pensarlo Ma sono più inquietanti Anche di Erbam Soprattutto le immagini Che vi ho fatto vedere Magari all'inizio del video Non so adesso quando Però Sono inquietanti Allora Noi entriamo qui in casa Stiamo attenti alle statue Non ci dovrebbero più Aspera Aspera Misuriamo le anomalie Ma non mi sembra ci siano Prego dimmi che non ci sono Davvero Ok Non mi stai ingannando Perfetto Non ci sono Ok Allora Questa statua Ragazzi Voi mi direte Ma sei pazzo Dunis Che fai? Ma a me non sembra Viva sta statua Cioè Non me la dai nemmeno come anomalia Se vedete Cioè Vedete? Io posso stare così Anche all'infinito Secondo me Questa è solo una statua decorativa E quindi va bene così E per quanto riguarda Questo posto è veramente Molto molto carino E mi sento abbastanza a casa In questo momento Quindi Questa è la base operativa Dei cacciatori Dei segreti Siamo fortissimi E per quanto riguarda